Ritorna la corsa ciclistica ricordando Marco Pantani, giunta alla 17esima edizione. Si tratta di una gara riservata ai ciclamatori e che vuole appunto ricordare il grande campione romagnolo, scomparso nel 2004. Dopo un anno di stop per i vari motivi legati alla pandemia da Covid-19, la corsa, che per alcuni anni era stata organizzata dall'UISP, sarà sottolegida della Federazione Ciclistica Italiana e sarà a cura del pedale lucchese Poli. La gara si disputerà sabato 12 febbraio e sarà valida anche per il trofeo Angelo Impianti. La partenza avverrà dal viale Luporini a Lucche, dopo una cinquantina di chilometri in pianura, si scalerà al Monte Chiesa e si giungerà ai 354 metri di Chiatri Puccini, dove presso il ristorante Prato Verde sarà posto l'arrivo. Naturalmente l'arrivo, visto che si corre nel nome di Marco Pantani, non poteva che essere in salita, quella salita che ha fatto del corridore romagnolo un'autentica leggenda del ciclismo e dello sport. Il pedale racconta che nel 2020, l'ultima edizione disputata era il 17 febbraio, a vincere fu Riccardo Coluccini, categoria M2, portacolori della New Team Bike Team, che sorprese gli avversari sulla salita finale del Ciocco. La corsa era partita sempre dal Ciocco, per raggiungere Ponte Amoriano e poi risalire di nuovo la Valle del Serchio, fino ad inerpicarsi sul mitico Colle di San Quirico, dopo 67 chilometri. Coluccini scattò ai piedi dell'erta finale, e con una pedalata costante ma potente, se per esistere al ritorno degli inseguitori. Sul podio salirono anche Giulio Scopetani e Davide Lombardi. Dopo due anni, l'omaggio al Grande Pirata torna.